Un bizzarro incidente per la dinamica con la quale si è verificato è che non sono vincimenti. Lo scarpistolo, scondermato a 6 anni di reclusura in carcere per l'omicidio della povera Riva Stankham, sarebbe stato rivolgerato in ospedale con due ferite e sarebbe già rientrato in un carcere a Pretoria dopo essere stato sottoposto alle cure che, per l'appunto, il reputo necessario. Secondo un settimanale sud-africano che ecciterebbe un detenuto del carico di Pretoria, Ristorius avrebbe tentato il suicidio, tagliandosi le vene. Senga daco Nusmaco, portavoce di partimento di un'amministrazione peninsale, avrebbe invece riferito che Ristorius avrebbe raccontato di essersi ferito cadendo dal letto. Il portavoce non avrebbe aggiunto grandi particolari a riguardo per motivi di paracasi. Averebbe però annunciato che sarebbe stata aperta un'inchiesta sull'accaduto. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e un caro saluto.